Musica Il neocommissario della sanità calabrese Massimo Scura si è insediato negli uffici del Dipartimento regionale della salute a Catanzaro. Scura ha annunciato che incontrerà venerdì alle ore 12 il presidente della regione Mario Oliverio, attualmente impegnato fuori Calabria, quindi ha smentito l'esistenza di problemi con lo stesso governatore. Assolutamente non c'è alcuno scollamento, ha detto. In attesa della prima verifica con Oliverio, il neocommissario ha evidenziato l'obiettivo che intende perseguire. Lavoreremo sodo perché la qualità della sanità calabrese raggiunga quella dei migliori. Sui tempi di durata del commissariamento Scura ha preferito dichiarare che non esistono certezze. Non possiamo mettere termini temporali, ha affermato, se ci vorranno 9, 20 o 30 mesi. Questo ancora non lo posso sapere. Impegni personali. Il presidente non è in Calabria prima di giovedì, quindi ci vediamo venerdì a mezzogiorno. E voglio parlare con lui prima di rispondere a tante domande. Ci siamo sentiti per telefono, ci siamo mandati dei messaggi. Diciamo che l'obiettivo di fondo è migliorare la qualità della sanità dei calabresi, dei bimbi, delle donne, degli uomini, degli anziani, eccetera. Se questo progetto di unificazione delle asle e delle aziende ospedaliere in un'unica azienda sanitaria ospedaliere regionale è propedeutica a questo obiettivo, ben venga. Ma c'è un progetto di unico socialità? Ah, questo non lo so, devo ancora leggere, però l'obiettivo è quello. Conosco un po' il problema, tra l'altro sono in Calabria da due giorni perché ho parenti in Calabria. Ho detto adesso a Zito che ho passato un bellissimo weekend in famiglia sostanzialmente perché tra Vaccarizzo Albanese e Cosenza ho visto quasi tutti i miei amici, parenti calabresi e tutti quanti erano a conoscenza della questione campanella. Quindi evidentemente è un problema. Certamente io non ce l'ho ancora il piano, però so che i subcommissari urbani e Zito già hanno messo giù alcune regole, adesso le vediamo e poi parleremo con la delegazione dell'istituto.